Eccoci qua con la parte 2 del video sulla luce e adesso lascio la parola al mio inviato. Benissimo, allora, la luce, abbiamo detto che viene il sole tramite le sue migliaia di esplosioni nucleari, di fusione nucleare, ci innonda di luce. Però c'è un problema, ci innonda di luce solo per 12 ore, perché la terra ruotando a un certo punto verrà dall'altra parte, quindi sarà oscurata. L'uomo ha sempre cercato un modo per riuscire a produrre la luce. Inizialmente c'è riuscito, c'è riuscito con il fuoco, con le fiaccole, con le lanterne ad olio e così via, bruciando. Ma com'è che funziona fisicamente? Sostanzialmente tramite dei processi chimici, perché un fuoco non è nient'altro che un'elezione chimica tra un combustibile e un comburente, ecco che si eccitano gli elettroni, degli atomi, che andando su un'orbitale superiore, quando ritornano, emettono quello che viene chiamato il fotore, quindi emettono una luce. Questo avviene in tutti i corpi caldi, sostanzialmente anche un corpo che non sta bruciando ma è molto caldo, ad esempio una colata ladica, produce dei frutoni, perché è molto calda, la vediamo di notte, produce della luce. Con questo principio, il secolo scorso, un tale Edison ha cercato di produrre, e c'è riuscito, e c'è riuscito anche in modo industriale, questo è un gran merito, di produrre quella che viene chiamata una lampadina, quindi per produrre luce utilizzando il passaggio di energia elettrica. Effetti, l'energia elettrica, passando su un corpo, o meglio, un conduttore, che magari tanto ben conduttore non è, crea una resistenza elettrica, questa resistenza elettrica, la corrente elettrica su questa resistenza elettrica produce calore, questo calore può scaldare, fino ad arrivare alla temperatura tale da far illuminare qualche cosa. L'inizio è approvato con dei filamenti di carbone, poi l'ottimo è uscito fuori con dei filamenti di tungostello, perché resistono a delle temperature altissime, e quindi si riesce a produrre dei filamenti della sufficiente luce, con dei filamenti molto sottili, ma questo è stato fino al secolo scorso. Nel 1960, uno statunitense, utilizzando un componente elettronico già presente nella componentistica, per esempio di radio, di televisione, e di qualunque altro sistema, chiamato diodo, il diodo serve per raddrizzare la corrente, in poche parole, si può passare da una corrente alternata ad una corrente continua tramite dei diodi. Mettendo su questo diodo, sulla placca del diodo, un componente, un semiconduttore, base di gallio, ecco che, dandogli corrente, ha visto che questo si illuminava. Ha creato il primo LED, il primo diodo luminoso, era in teoria di colore rosso. Primi sono stati di colore rosso, di colore verde. Con un vantaggio in dubbio. Non doveva scaldare il componente a delle temperature così alte, e soprattutto non doveva utilizzare così tanta energia. L'energia utilizzata era circa un centesimo, ancora adesso circa un centesimo, quella utilizzata per una normale lampadina. I primi utilizzi furono gli orologi, perché gli orologi avevano un problema, gli orologi elettronici avevano un problema. Non si riusciva a farli illuminare di notte, perché mettere una lampadina con una batteria, questo significava vedere l'ora due o tre volte e poi dover cambiare la batteria, sostanzialmente. Con il LED questo non succedeva, nel senso che la batteria durava parecchi mesi. Ancora adesso ci sono, per esempio, il Casio, ancora un orologio a cristalli liquidi illuminato con il LED. Da lì la tecnologia è andata avanti, si sono sviluppati tutti i vari colori, il primo vi hanno detto il rosso, poi il verde, si sono sviluppati il giallo, il bianco e così via. Adesso abbiamo tutta l'intera gamba di colori e possiamo addirittura... Il vantaggio è in dubbio, non è solo una questione di risparmio energetico, è anche un risparmio di tutta la componentistica relativa. Adesso una lampadina di per sé è abbastanza semplice, ma prendiamo un televisore, un televisore da 55 pollici, che ormai è uno standard, nelle case italiane, anche c'erano due o tre, forse avessimo ancora la vecchia tecnologia col tubo cattolico, sarebbe un bestione di due metri per due, più o meno, del peso di parecchie centinaia di chili e soprattutto che consumerebbero come... Un casino! Siamo tutti podani che saremmo tutti... Invece, grazie ai LED, ecco che possiamo creare un televisore della grandezza che vogliamo, basta solo aggiungere LED, aggiungere componentistica. Grazie mille! E so, lui è stato anche il nostro ospite in SenseRapyro, è gareggiato come concorrente, tra l'altro. Vi lascio il link sotto in descrizione del... Ah, grazie. Vi lascio il link in descrizione della puntata, lui era la prima puntata, però ci sono due o tre puntate di SenseRapyro. E noi ci vediamo in un prossimo video, sempre qui su questo canale, la prossima settimana. Ciao! Ciao!